francesco buongiorno come vali in sicilia buongiorno a te morgan qui c'è una bellissima giornata di sole anche se io questa voce un po da rocker consumato qui invece piove vedi benissimo nord italia sol italia già partiamo bene bene non benissimo diciamo francesco musolino è un giornalista culturale e uno scrittore e questa attività ovviamente come giornalista culturale ti ha portato negli anni a diverse conoscenze del territorio della cultura delle persone che insomma contano nel mondo culturale italiano allora mi vado a chiederti questo ma che cosa significa secondo te nel 2023 fare il giornalista culturale e soprattutto è diverso rispetto a cinque o dieci anni fa guarda io ho cominciato nel 2006 mi ricordo forse il primo libretto che ho ricevuto da inaudi è stata una grande emozione mi ricordo credo fosse un libro di normal mailer bellissimo non mi ricordo la prima volta coperto un pacchetto no la la sentire via la fiducia della casa editrice della grande casa editrice che per la prima volta ti ti manda un libro quindi una grande emozione ricordo la passione dei primi pezzi giornali online cose anche scalcagnate roba così un po poi insomma dimenticata nel tempo invece con altri ci siamo ancora siamo ancora in contatto la grande passione sicuramente fondamentale e c'è sempre nel tempo passando da da redazioni online redazioni cartacee passando da quotidiana quotidiano sempre sempre precario questo lo voglio dire subito all'inizio conversazione questo mestiere è distrutto dal precariato perché ragazzi io dal 2006 ogni giorno io mi sveglio e comincio a mandare proposte ed è un po come stare con una bomba a mano in tasca io non so se questo come come cambierà il giornalismo vedo leggo molto il new york times leggo il guardian cioè mi cerco di tenermi sempre informato vedo che loro stanno spingendo sulle firme non lo so cosa succederà il giornalismo italiano però vi posso dire che non può durare all'infinito così cioè è strano il mestiere è però bellissimo hai la possibilità di incontrare i tuoi miti i tuoi insomma i tuoi scrittori del cuore hai la possibilità di vedere crescere degli degli scrittori di intessere anche dei rapporti personali delle amicizie di frequentare i festival di vedere il dietro le quinte della produzione di un libro di vedere un giorno la tua la tua frase in una in un lancio di un libro ci sono delle grandi soddisfazioni bisognerebbe far camminare le cose anche da un punto di vista economico e della valorizzazione della firma e negli ultimi cinque dieci anni secondo te è cambiato molto o l'andazzo è solito a parte il precariato ma si è cambiato perché perché sono entrati prepotentemente blog blogger e tiktok tutta questa roba social che io non mi sento assolutamente di condannare o di giudicare non sta a me giudicare sono cose diverse pubblici diversi un tipo di lettura diversa io due giorni fa ho fatto un lancio importante sul messaggero del nuovo libro di carrer ho lavorato sulle bozze è stato veramente emozionante quel tipo di lancio lì serve per un altro tipo di pubblico le copertine insomma i talk le dirette su instagram è cambiato tanto però secondo me io adesso una ho una nipoteca a 14 anni di una grandissima lettrice e so che ci è arrivata tramite tiktok e allora ben venga anche tiktok che mare c'è assolutamente proviamo francesco a tornare proprio indietro come menzionavi prima i tuoi inizi ti va di raccontare qualcosa soprattutto anche per i più giovani no condividere delle esperienze che per te al tempo magari furono quasi come dicevi prima emozionanti delle novità però magari per un giovane che inizia quelle cose possono sembrare non so spauracchi ansie come li hai vissuti quegli anni tu? e guarda la io mi ricordo che l'inizio l'inizio fu tipo tipo sai quella striscia classica di Schultz e di Snoopy no? la notte tempestosa che farò della mia vita e mi ricordo che scelsi di provare col giornalismo no? quindi ritardai l'esame di università per cominciare a propormi no? quindi mandai delle mail cerchia dei contatti ed erano ed era il 2006 immagina adesso quanto è più facile trovare i contatti diretti anche dei redattori anche proporsi ti dico una cosa sinceramente a che serve l'ordine dei giornalisti oggi? secondo me serve la firma serve che tu sia responsabile serve che ci sia qualcuno sopra di te che vigila sulle cose che scrivi e che ovviamente si prende anche la responsabilità non è una questione di mettere ordine di mettere tessere di mettere bollini e di pagare le tasse il giornalismo è altro è la bellezza il mestiere prendersi la responsabilità di portare una notizia chi vuole fare il giornalista secondo me che sia culturale economico di cronaca deve sentire il fuoco sacro perché senza passione questo mestiere non lo puoi fare allora io ho cominciato con la passione e poi piano piano ho cominciato a far girare i pezzi ecco una cosa che mi è servita tantissimo a un certo punto mi sono creato una newsletter interna aggiungendo indirizzi ero un po' stalker ero giovane stalker diciamo è così però piano piano ho costruito una rete sai poi ti cominciavano a proporre dei libri dei titoli delle prime interviste è bello quando porti a casa delle cose che hai pensato delle interviste che insomma hai seguito tu dei nomi che hai voluto fortemente è una bella soddisfazione certo certo in parallelo all'attività come giornalista oltre ad alcuni racconti nel 2019 hai esordito anche come narratore come saggista quindi hai avuto un anno importante e quest'anno con il romanzo mare mosso edizioni e o sei candidato al premio strega ora questo passaggio se così possiamo dire mi permetti la parola da scrittore da giornalista a scrittore è stato qualcosa che che sognavi un po anche da quando eri giovane oppure è stato qualcosa che si è creato da semi che a un certo punto sono così esplosi e te li sei trovati di fronte guarda sai chiamo in causa un amico che è Antonio Prudenzano Antonio a un certo punto mi disse ma perché non fai un libro con le due quando lo fai il libro lo sai quelle provocazioni quando è che riesci il tuo libro? ho detto Antonio ma di che stiamo parlando poi la vita ti porta a spasso la vita è sempre tutt'altra da quello che tu sogni io ho deciso in un momento in cui scrivevo per Vogue avevo dei contatti fortissimi a Milano ero pronto a trasferirmi a Milano quella prima volta lì poi la mia vita cambiò per una perdita grave e tutto era io, tutto si sistemò altrove però da quel momento in poi ho sentito il bisogno di raccontare una storia che non era la mia storia io ho cerchato di fare un passo indietro ho cerchato di raccontare nell'attimo prima una vita diversa da quella che avrei potuto vivere tenendo le emozioni per me questa cosa è molto importante quindi non ho scaricato il bagaglio delle mie esperienze emotive ho fatto un altro passo indietro però questa cosa mi ha permesso di avvicinarmi alla scrittura con qualcosa di molto mio, di molto personale che volevo raccontare e dopo quel primo racconto poi vabbè c'è stato il saggio con Newton ma quello è un altro discorso sulla Sicilia insomma un tipo anche di racconto che però è anche mio nel senso la necessità di raccontare l'isola in maniera diversa dalla cortolina ecco questa è anche una cosa molto mia e sai quando leggi tanto immagino che sia anche una tua prerogativa quando leggi tanto diventi diciamo ambizioso diventi pretenzioso vuoi che le storie vadano oltre cerchi delle cose che si spingano più avanti oltre la frontiera, oltre gli schemi quando leggi tanto gli schemi narrativi li capisci subito dove vanno a finire i film, dove vanno a finire le storie allora scrivere per me è stato un provare a raccontare la mia storia le mie storie, il mio linguaggio, il mio modo di leggere le cose e non è stato per me un accodarsi al trend alla cosa che andava di moda ma fare la mia parte, fare il mio perso di racconto ben sapendo che in una biblioteca mondiale ideale dopo Murakami c'è Musolino che è un po' strano questa mi è piaciuta senti ma invece ti va di condividere un po' al netto di tutte le dinamiche e le logiche che ci sono all'interno del premio Australia che magari alcune sono note, alcune sono meno note ma quali sono le emozioni da esordiente perché poi alla fine è la prima volta per così dire è stata una cosa bella perché a un certo punto Luca Ricci che è uno scrittore che io apprezzo e che io ammiro è un amico ma non è un amico intimo con cui io esco a bere ecco questa è una cosa che secondo me è interessante da dire una persona che io leggo e che so che mi legge mi ha detto che stava leggendo Mare Mosso così casualmente poi è venuta fuori questa proposta di candidatura io sono rimasto scioccato, emozionato, felice tutte le emozioni belle di questo mondo nel frattempo le candidature stavano uscendo stavano andando via e c'era rimasto l'ultimo slot quindi io fino a qualche giorno prima non sapevo se realmente la casa editrice stesse seguendo la cosa se tutto fosse andato in porto sai è bello e io mi sento io sono felice di questo fatto di partecipare di essere parte di questi 80 titoli 80 titoli sono tanti per carità di Dio sono tantissimi ma quanti libri escono ogni anno? migliaia? allora forse 80 titoli sono una goccia nel mare di questi 80 titoli questo comitato direttivo quanti ne avrà già letti perché sono libri che insomma alcuni hanno grandi visibilità secondo me una buona metà e allora sì 80 titoli sono tanti però ragazzi non facciamo ogni volta sempre il teatrino io sono contento perché da scrittore è bello cioè il premio strega è una grande emozione da giornalista che lo ha sempre eseguito io sono affezionato al premio strega ci sono quelli che dicono ah il premio strega le solite cose a me non interessa io sono andato più volte ho partecipato sempre con uno spirito positivo mi sento amico del premio della fondazione so che ovviamente capisci io sono ai piedi della salita ai piedi della montagna però era un passo bello è un passo emozionante e soprattutto io sono contento sai di che cosa che è un nuar mediterraneo entri nella rosa dei titoli proposti entreremo nella dozzina boh chissà però il mare mosso è lontano dal canone diciamo classico no dei romanzi che è solitamente letteraria e allora forse anche questa è una cosa bella da dire una cosa un tentativo anche un po' di allargare diciamo i margini no di uscire fuori dal selciato di portare una storia mediterranea di raccontare il mare di portare dentro i zoo e cortomaltese che credo onestamente a memoria per la prima volta entrino nelle motivazioni ufficiali del premio strega il nostro mare il nostro mediterraneo noi siamo una penisola e il mare non lo raccontava più nessuno io sono un grande lettore ma un piccolo lupo di mare un lupacchiotto di mare mi sono accorto che per vent'anni tipo nessuno scriveva di mare nessuno raccontava il mare eppure il mare è il regno delle storie da Omero in poi mi è sembrata una cosa talmente strana che ho detto facciamolo lo faccio io ecco questo per me essere narratore non è accodarsi e prendi un'altra strada anche se sappiamo benissimo che il mercato diciamo culturale diciamo che le novità non è che sono proprio la cosa che il mercato richiede sostanzialmente spesso ti chiedono sta vendendo bene il libro di Morgan facciamo una cosa come il libro di Morgan quindi non è che fare una cosa nuova nel mercato editoriale sia spesso una genialata non è una cosa che facilmente ti chiedono però anche l'idea di pubblicare di cercare oggi un libro che forse esce fra sei mesi dodici mesi lo sapisci che è strano no? cioè è come se tu mangiassi costantemente sempre la stessa minestra allora Mare Mosso era l'idea di fare una cosa che io volessi fare siccome in questo momento purtroppo non ho i numeri del best seller purtroppo non ho capito non sto muovendo diciamo il fatturato di che ne so di De Giovanni allora quantomeno faccio quello che voglio fare è quello che voglio fare adesso è raccontare il mare bello mi piace molto ma ma per tornare al giornalismo sai si dice spesso che il giornalismo non solo culturale è in crisi soprattutto per ragioni anche appunto come accennavi all'inizio di sostenibilità economica e sicuramente ricordi anche quella dichiarazione del direttore del New York Times anni fa che decretò la fine anche del giornalismo cartaceo ecco che pensieri hai a riguardo rispetto a questo tu? è difficile perché perché quando tu cioè capisci che è anche una cosa molto molto personale nel senso che quando tu investi la tua vita su un mestiere e capisci che le redazioni salvo colpi di scena eclatanti non assumono tanto che l'ordine dei giornalisti è in crisi perché mancano le assunzioni è dura questa cosa è proprio cioè come se parlassimo di una storia d'amore travagliatissima però credo che sia anche stupido continuare a insistere sempre con le stesse cose se le nuove generazioni non comprano i giornali ed è evidente se c'è una pirateria dell'editoria che è evidente e che non possiamo far finta che non ci sia bisogna secondo me valorizzare le firme ed è quella cosa che ti stavo dicendo prima e cercare di creare proprio come fa il New York Times dei canali paralleli in cui la firma vinca allora questo cosa significa i pezzi restano sempre quando Musolino tu stai parlando scusa mi stai parlando dei micro abbonamenti i micro abbonamenti o le fidelizzazioni o i podcast tutto quello che può essere senti tu ti sei sempre letto Francesco Musolino Morgan Palmas sul giornale abborati a questa cosa ti arriveranno i contenuti di Musolino di Palmas di La Gioia quello che vuoi tu delle lipperini quello che ti pare a te perché sai che di loro ti puoi fidare ecco è la fiducia alla nuova moneta o forse è sempre stata questa però in un tempo in cui lo diciamo è inutile fare finta di niente in un tempo in cui ci sono tante recensioni anche nei blog anche nei giornali anche nei giornali più quotati che sono un po' ruffiane quello che vince secondo me è la fiducia è che io mi trovo una recensione di Morgan Palmas e dico questa me la posso leggere mi fido poi lo compro non lo compro questo è un altro discorso però io vorrei che si tornasse o che si rivalutasse quella cosa che succedeva dieci anni fa ancora quando la gente arriva in libreria col giornale e diceva io voglio questo libro qua perché me lo consiglia tale e io di tale mi fido questa cosa purtroppo e io che frequento le librerie spesso non la vedo più non la vedo più difficilmente vedo sento ah ho letto il pezzo accade ma accade pochissimo e allora come si rifà a riprendere questa cosa a rimetterla in movimento secondo me è una questione di fiducia di valorizzare le firme di investire sui ragazzi di investire su chi veramente ci crede Rai per scrivere di un libro bisogna leggerselo io partirei da qui è un lavoro che tu fai anche a fondo perduto quindi bisogna secondo me bisognerebbe che ci fosse più fiducia più spazio nei giornali per le pagine dei culturali per i libri lo so che sembro anche un po' utopico però puoi pensare anche a un paywall un'espansione digitale audio un podcast cose che spingono verso una generazione Z che non si compra i giornali è inutile che tu spingi verso cose che non ci sono più c'è un mercato nuovo bisogna andare in quella direzione lì senza snaturarsi non è che mi metto il cappello in testa e suono la chitarra cioè giovanotti fa giovanotti musolino fa musolino ognuno fa il suo cioè è inutile capito stare a mescolare le cose però cercando di indirizzarsi verso un altro mestiere potremmo aprirci un canale di tiktok tu e io sì ma non lo so se funzionerebbe ma perché mi devo andare a fare cose cioè io ho bisogno solo se balliamo solo se balliamo insieme esatto ma ho bisogno di altre notifiche di altri push di altri ma basta ti prego facciamo di no facciamo che cerchiamo delle vite alternative per resistere senza snaturarsi è difficile non ti sto dando nessuna soluzione non sono un editore io però secondo me lo spazio c'è cercando di andare incontro al nuovo mercato senza però snaturarsi senza svilirsi ti faccio sognare allora salto in avanti dieci anni ma adesso devi sognare davvero tu che parli di mare salto in avanti di dieci anni è il 2033 marzo 2033 francesco si sveglia improvvisamente il mattino che cosa vorrebbe fare allora mi sveglio nella mia casa di londra perché se devo sognare sogno in grande londra è la mia città del cuore mi sveglio nella mia casa di londra mi faccio un caffè americano cosa che bevo tutt'oggi prendo i giornali io sono abbonato e lo dico con grande con grande diciamo felicità è una cosa che mi ha passato mio papà sono abbonato adesso a quattro quotidiani e io voglio restare abbonato a quattro quotidiani quindi prendo il caffè americano mi guardo i miei quotidiani entro nello studio chiudo la porta e mi metto a scrivere e questo per me è la felicità direi che non è male fra dieci anni ci vedo bene come una scena io io voglio investire sulla mia scrittura il giornalismo culturale è la mia la mia sostanza la mia base però voglio investire sempre di più sulla scrittura sul mio modo di narrare poi chissà non dipende solo da me c'è anche il fattore fortuna che sappiamo quanto conta no? però io credo moltissimo anche nei corsi di scrittura che tengo io credo moltissimo nella motivazione se tu non stai col culo sulla sedia il libro non si scrive da solo che è vero questo diciamo la partenza è la tua volontà poi sai centomila varianti e variabili però se tu non ci sei come dice Stephen King se tu non ci sei quando passa la musa che fai? è così Francesco ti auguro una buonissima giornata siciliana dato che c'è il sole e qui guarda un po' la finestra allora come direbbe Woody Allen quella è una giornata perfetta per scrivere esatto o per lavorare per lavorare ti ringrazio tanto per il tuo tempo e per queste belle domande grazie a te caro a presto ciao